Un approdo sicuro per le donne, spesso madri, ed i loro bambini. E' questo lo scopo del dormitorio femminile che ha aperto a Novi Ligure nel complesso di Santa Rita in via Montegrappa. Il traguardo è stato raggiunto grazie alla parrocchia di San Pietro, all'aiuto di due associazioni di volontariato come Caritas e San Vincenzo, senza dimenticare l'apporto della Fondazione Zingardi Bolognaro e dell'amministrazione comunale. Quattro nuovi posti letto riservati a donne, nel caso ai loro bambini, che vanno ad aggiungersi ai sei già esistenti nel dormitorio per i senza tetto riservato agli uomini. Ricavare la nuova struttura non è stato semplice per la logistica dell'area. I costi per il dormitorio hanno superato i 100.000 euro, garantiti dalla Fondazione Zingardi Bolognaro, e dalla mano sempre tesa del gruppo Ignis Ardens, facente parte del volontariato vincenziano. La gestione dell'area sarà a cura della Caritas, appoggiata in questo compito dalla parrocchia di San Pietro e dall'amministrazione comunale. La Caritas, infatti, garantisce già l'apertura notturna del dormitorio maschile, tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle 19 alle 7 del mattino successivo, e che è vigilato da un custode e regolato da dettami ferrei. Per quanto riguarda le donne, invece, le maglie saranno più larghe, specialmente per favorire le eventuali madri. Lo spazio di Santa Rita, poi è bene ricordarlo, conta sul sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, e da tempo ospita un'apprezzata estate ragazzi. Durante la cerimonia di apertura del dormitorio sono state scoperte tre targhe per ricordare personalità del mondo della solidarietà novese, e cioè Teresa Broglia, Margherita Zingardi e Monsignor Pino Viano.